C'è tutti ragazzi, oggi voglio farvi vedere come potete giocare a tutti i giochi per DOS quindi Doom, Wolf, Stein e tutti gli altri giochi famosi per DOS su un sistema operativo moderno utilizziamo Dosbox, che è un programmino gratuito che si scarica dal sito www.dosbox.com è famosissimo, sicuramente voi l'avete sentito parlare però faccio questo video per spiegarvi come farlo partire è molto più semplice di quello che sembra e useremo un paio di trucchetti per semplificare il lavoro di scrittura e faremo due prove una con due giochi diversi, in pratica Doom e Wolf, Stein ok? qui mettiamo il nome originale perché? tanto adesso lo andiamo a cambiare adesso vi faccio vedere perché facciamo due giochi diversi e non uno? perché Wolf, Stein è tra virgolette già installato tra virgolette nella cartella mentre Doom, vedete ha un setup exe e non ha un... c'è anche Doom però noi dobbiamo andare col setup quando vedete setup il gioco va installato quindi e io vi insegnerò esattamente come fare allora installate Dosbox programmino gratuito molto leggero e... e partiamo prima di partire però dobbiamo creare una cartella la creiamo sul desktop la chiamiamo seguite il mio consiglio io la chiamo Old Games facile da ricordare all'interno della cartella Old Games andiamo a mettere i nostri giochi ok? adesso un suggerimento la cartella può essere dove volete la potete mettere dove volete ma siccome Dosbox funziona a riga di comando noi dobbiamo scrivere a mano il percorso della cartella e quindi per evitare di perdere troppo tempo la andiamo a inserire all'interno di un punto più più facilmente accessibile ecco io la inserisco sempre in disco locale C vedete? così il suo percorso file sarà questo C due punti sbarretta Old Games quindi non perché se fosse stato in desktop avremmo dovuto scrivere C due punti seven utenti desktop eccetera qui invece in C quindi disco locale C creiamo una cartella la chiamiamo così e dentro ci mettiamo i nostri giochi adesso un altro trucchetto quando voi scaricate ops il gioco le cartelle che ci sono all'interno del RAR hanno un nome ok? dovete stare attenti vi do un consiglio apriamo Doom non ci interessa per adesso perché prevede un'installazione la vedremo dopo Wolf e Stein andate a vedere la cartella vedete? ci sono due eseguibili uno help quindi non ci interessa e l'altro è Wolf 3D che è proprio il gioco in senso stretto cioè l'eseguibile del gioco si chiama Wolf 3D quindi noi rinominiamo tutta la cartella Wolf 3D perché la rinominiamo Wolf 3D? perché quando noi andremo all'interno dell'ambiente Dosebox a scrivere il nome della cartella da montare useremo lo stesso nome sia per la cartella che per l'ex non dovremo ricordarci due nomi diversi scriveremo una volta scriveremo due volte ma lo stesso nome quindi sarà più facile da ricordare fatto questo ricordiamoci che la cartella si chiama Wolf 3D e l'eseguibile si chiama Wolf 3D benissimo andiamo ad aprire Dosebox ok qui vabbè da G27 perché sono attaccato con G27 allora iniziamo a scrivere scriviamo mount quindi il comando di montare una cartella C spazio C due punti slash cioè maiuscolo 7 old games qui non facciamo altro che e diamo invio che montare la cartella C due punti old games quella che abbiamo appena creato questa qui old games bene adesso dobbiamo scrivere C due punti e diamo invio adesso dobbiamo scrivere quest'altro comando CD in questo caso scriviamo il nome della cartella Wolf 3D che vuol dire con questo comando noi diamo all'ambiente Dosebox un ordine e come se lui vedesse nella cartella Wolf 3D che abbiamo appena scritto una floppy o un'unità esterna comunque quindi in via proprio molto alla lontana può ricordare quando montiamo le ISO con Demon Tools cioè il computer le vede come se fossero dei veri CD e qui è una cosa simile però molto diversa per farvi capire quindi con questo comando il computer vedrà la cartella come un'unità esterna andiamo unità esterna insomma un'eseguibile diamo invio a questo punto non dobbiamo fare altro che scrivere il nome dell'exe che noi vi ricordate abbiamo cambiato abbiamo cambiato il nome della cartella affinché sia uguale quello dell'exe e quindi wolf3d.exe diamo invio ed ecco qui Wolfstein sperando che non mi venga bannato in Germania per questa musica perché i tedeschi sono rincoglioniti oltre che nazisti però vabbè tanto se me lo bannano queste frasi non le sentono allora ecco qua e il gioco è perfettamente giocabile si può anche salvare ovviamente qui non posso salvare perché l'ho eseguito adesso per la prima volta e si gioca esattamente come su DOS originale non metto a tutto schermo si mette a tutto schermo se mi viene con alto invio non metto a tutto schermo perché non so se poi action continua a riprendere e soprattutto cioè su uno schermo così grande mi fanno male gli occhi a giocare con tutti questi pixel comunque il gioco è quello originale cioè emulato perfettamente chiudiamo allora ricordatevi una cosa no ricordatevi una curiosità all'interno di DOSBOX è possibile settare i cicli quindi qui ve lo faccio vedere ecco qua adesso è 3000 cicli diciamo di standard voi potete abbassarlo per rendere l'ambiente di esecuzione con le stesse prestazioni di un computer dell'epoca e quindi avere una emulazione perfetta ma comunque non è il nostro caso adesso andiamo a vedere la parte più difficile quindi ricordatevi quando fate partire un gioco già installato che non ha un setup all'interno della cartella semplicemente utilizzate questi pochi comandi mount c spazio destinazione della cartella c2 punti cd nome della cartella del gioco e poi nome del gioco l'eseguibile adesso andiamo a usare doom allora vediamo la cartella si chiama doom e siccome c'è un setup andiamo su setup ok quindi mount c scusate c c2 punti slash old games c2 punti cd doom adesso setup punto exe avete visto abbiamo fatto le stesse così prima abbiamo montato la cartella old games ci siamo sposati in c abbiamo boot atto la la cartella del gioco abbiamo messo il nome dell'eseguibile ok adesso parto una piccola installazione vabbè minuscola va bene save parameters ed eccoci qua questo qui è doom né più né meno che doom dove siete mostri ue 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 vedi il bello qua che ole a difenza di wolf stein su doom tieni premuto il control e spari a ripetizione no adesso mi ammazzano perchè io non ho mai giocato a doom cioè ci ho giocato ma è anni se non faccio partite bene super medikit che cazzo è sto casino comunque potete anche salvare quando fate quit per chiudere date semplicemente il comando exit perfetto per farlo partire adesso andate semplicemente su doom questo era piccolo tutorial su come fare partire i giochi con dosebox è molto semplice il programma si scarica da questo sito ve lo metto nella descrizione e c'è in tantissime versioni anche per linux quindi questo è tutto divertitevi con i vostri giochi a l'inforzio a a a Grazie.